Incontri di accompagnamento alla nascita Gli incontri di accompagnamento alla nascita sono attività di gruppo rivolte ai futuri genitori. Rappresentano un'opportunità di promozione della salute poiché l'obiettivo è quello di favorire l'empowerment della donna e della coppia nel percorso nascita. Gli incontri sono guidati da un'ostetrica con la partecipazione di altre figure professionali quali infermiere pediatriche, neonatologi, ginecologi, pediatri di libera scelta, anestesisti e polizia stradale. La gravidanza è un periodo di trasformazione che coinvolge il corpo e la mente della donna ed è anche un momento di profondo cambiamento per la coppia e la famiglia. Gli incontri favoriscono la condivisione dell'esperienza con altre coppie e forniscono sostegno alla donna nelle sue decisioni lungo tutto il percorso della nascita. Si parlerà di tutto ciò che le coppie hanno bisogno di sapere per il loro percorso di genitorialità, di travaglio e di parto, ma anche di allattamento e del ritorno a casa col bambino. Questi incontri non possono fornire un manuale di istruzioni per l'uso poiché nessuna gravidanza, travaglio, parto e bambino sono uguali. Lo scopo del nostro percorso di accompagnamento alla nascita è quello di dare informazioni, creare consapevolezza, capacità e competenza, incoraggiare le coppie e le mamme ad avere fiducia in se stesse, nel loro bambino e nella coppia, oltre a fornire informazioni tecnico-pratiche. Il primo incontro prevede la presentazione generale dei partecipanti del gruppo, degli obiettivi del percorso, dei vari argomenti che verranno trattati e delle figure professionali che interverranno. Il secondo incontro affronta l'argomento travaglio-parto come riconoscere e gestire i problemi di travaglio, quando recarsi in ospedale, la rottura delle membrane e le strategie per la gestione delle contrazioni con metodi di analgesia naturale. Nel terzo incontro si parla dell'importanza dell'allattamento, dei benefici del latte materno e delle strategie che possono essere attuate dalle mamme per un buon avvio dell'allattamento. L'ultimo incontro prevede un tour in sala parto con visione degli ausili da utilizzare durante il travaglio, sgabello olandese, vasca per il parto e travaglio in acqua, eccetera. Parleremo di valigia per la mamma e per il bambino e di tutto ciò che occorre da portare in sala parto. Argomento ultimo ma fondamentale sarà l'organizzazione del rientro a casa, con strategie gestionali, con particolare attenzione alla necessità della mamma di supporto emotivo e pratico. A questo proposito mettiamo in evidenza il nostro progetto nato da una decina di anni che prevede un percorso post-nascita per mamma, papà e bambino. Sono incontri settimanali tutti i mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 presso la palestra, sempre al padiglione 12, sesto piano, tenuti da un'ostetrica e da un'infermiera pediatrica su base volontaria, dove le mamme possono condividere le loro esperienze in un clima di non giudizio e trovare un aiuto pratico. Infatti tali incontri hanno lo scopo di fornire sostegno alla mamma nell'allattamento e nella gestione del neonato a casa e supportare la coppia di neogenitori in questo nuovo e straordinario percorso genitoriale. Si parla inoltre di cura del neonato, massaggi anticoliche, contenimento e wrapping, della modalità di utilizzo della fascia, il tutto con dimostrazioni pratiche. Nell'incontro mensile pomeridiano, in cui si alternano diverse figure professionali dalle ore 14 alle 16.30, ci sarà l'anestesista che fornisce alle partorienti le informazioni sulle tecniche farmacologiche per il controllo del dolore durante il travaglio e parto e in particolare l'epidurale. Segue una chiacchierata con il pediatra di libera scelta che principalmente informa i futuri genitori sul percorso di iscrizione del neonato al sistema sanitario nazionale e sul ruolo del pediatra nel percorso di cura del bambino. Il neonatologo espone tutti i diversi aspetti importanti relativi all'adattamento alla vita extrauterino, relativi ai primi giorni di vita, quali gli screening e piccoli e grandi problemi dei primi giorni di vita. Ci sarà inoltre un team di professionisti infermieri e medici del nostro istituto che informeranno i genitori su alcune condizioni e comportamenti da adottare per proteggere i neonati nei confronti della SIS. Infine interverrà la polizia stradale per illustrare ai futuri genitori le normative vigenti sul trasporto corretto del neonato in auto. Le coppie possono partecipare dalla 31esima alla 34esima settimana di gestazione chiamando il numero 335-74-11952 dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 14.30. Il percorso di accompagnamento alla nascita è organizzato in 5 incontri in presenza con cadenza settimanale della durata di circa 2 ore ciascuno di cui 4 al mattino dalle 10.30 alle 12.30 ed 1 al pomeriggio dalle 14 alle 16.30 e si svolgono tutti presso la palestra nel paviglione 12 al sesto piano.